Musica Elezioni regionali, domani si voterà per l'elezione del Presidente della Regione e per il rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana. Seggi aperti solo dalle 7 alle 23. A Coltella il Vicino, dopo una lite sui confini dei terreni, ad Adrano i carabinieri hanno arrestato un uomo di 66 anni per tentato omicidio aggravato. Controlli dei carabinieri a Marsala, 18 i denunciati per furto di energia elettrica. Appuntamento dal 12 al 16 ottobre a Palermo ai cantieri culturali della Zisa al Cinema de Seta, con la seconda parte dell'ottava edizione di Anima Fix International Animated Film Festival. Si è chiuso questa mattina il ritiro a Manchester del Palermo, ospite della proprietà del Citigroup. Prima della partenza i Rosa hanno vinto l'amichevole contro il Nottingham Forest. Ben ritrovati alla seconda edizione del Tg di Media News di sabato 24 settembre. Domani si voterà per l'elezione del Presidente della Regione e per il rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana. Seggio aperti dalle 7 alle 23. Tele One seguirà le operazioni di scrutinio a partire dalle 15. Domenica 25 settembre si vota per l'elezione del Presidente della Regione e per il rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana. Le operazioni di voto si svolgeranno nella sola giornata di domenica dalle 7 alle 23. Lo scrutinio delle schede sarà effettuato lunedì 26 settembre a partire dalle 14. Il sistema elettorale infatti prevede un solo turno con metodo misto senza ballottaggio. Saranno chiamati a votare 4.606.564 cittadini siciliani. Il totale delle sezioni da scrutinare è 5.294 in tutta la Regione. La scheda è unica ma l'elettore dispone di due voti. Un voto per la scelta della lista regionale, il cui capolista è candidato alla carica di Presidente della Regione. Un voto per la scelta della lista provinciale, in questo caso si può esprimere la preferenza per uno dei candidati alla carica di deputato. Nel caso in cui non venga espresso alcun voto per una delle liste regionali, il voto validamente espresso per una lista provinciale si estende automaticamente anche alla lista regionale collegata. È prevista la possibilità di esprimere il voto disgiunto. L'elettore può votare una lista regionale e una provinciale non collegate fra loro. Quindi è possibile tecnicamente esprimere una preferenza per un deputato all'Ars e una preferenza per un candidato alla presenza alla Regione appartenente ad uno schieramento politico o differente. Per l'elezione dei 70 deputati dell'Ars viene adottata la seguente ripartizione. 62 seggi sono attribuiti con il sistema proporzionale puro e soglia di sbarramento al 5% a livello regionale. 16 a Palermo, 13 a Catania, 8 a Messina, 6 ad Agrigento, 5 a Siracusa e a Trapani, 4 a Ragusa, 3 a Caltanissette e 2 ad Enna. Un seggio spetta al candidato alla presenza alla Regione eletto. 6 vengono assegnati all'interno della lista regionale del candidato presidente, il listino. Si tratta in sostanza di una lista bloccata che funziona da premio di maggioranza e consente alla coalizione collegata al Presidente alla Regione eletto di ottenere al massimo 42 seggi. I seggi a tal fine, non utilizzati, sono distribuiti con criterio proporzionale alle liste di minoranza che abbiano superato lo sbarramento. Un seggio spetta al candidato governatore, arrivato secondo nelle preferenze. Gli uffici comunali resteranno aperti dalle 9 alle 19 per consentire ai cittadini di ritirare la tessera elettorale nel caso in cui non l'avessero ricevuta o per l'eventuale rilascio del duplicato nel caso in cui sia stata smarrita o diventata inservibile. Cambiamo argomento a Lampedusa, fermati due egiziani con l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. La polizia di Agrigento presso l'hotspot di Lampedusa ha fermato due egiziani accusati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina di uno dei più grossi sbarchi per numero di migranti registratosi nel mese di settembre. A seguito dei numerosissimi sbarchi che continuano incessanti sull'isola di Lampedusa, la squadra mobile di Agrigento è riuscita a individuare un 38enne e un 22enne che in violazioni delle norme previste dal testo unico dell'immigrazione clandestina hanno trasportato nel territorio italiano extracomunitari per i quali è stato poi accertato lo status di stranieri irregolari, conducendoli dalle coste africane verso le acque territoriali italiane a bordo di natanti inidonei ad effettuare la traversata. L'indagine è stata incentrata sulla ricostruzione delle dinamiche dello sbarco del 4 settembre, verificatosi a Lampedusa. Quel giorno sono arrivati sull'isola 117 migranti di varie nazionalità a bordo di un natante in legno della lunghezza di circa 12 metri, sicuramente non abilitata a trasportare così tante persone. Così che durante il viaggio, durato ben 20 ore, l'imbarcazione a causa del mare agitato e dell'elevato numero di passeggeri ha imbarcato acqua. I migranti hanno riferito anche della mancanza di dispositivi di sicurezza, quali giubbini salvagenti o altro. I due egiziani sono stati condotti presso il carcere di Agrigento. Accoltella un vicino dopo una lite sui confini dei terreni. Ad Adrano i carabinieri hanno arrestato un uomo di 66 anni per tentato omicidio aggravato. Tentato omicidio aggravato. Con questa accusa i carabinieri hanno arrestato ad Adrano un uomo di 66 anni che al culmine di una lite per problemi di confini. Delle loro campagne ha colpito il suo vicino accoltellate al viso e al collo. La vittima dopo l'aggressione si è presentata alla stazione dell'arma dove è stato soccorso e condotto con un'ambulanza all'ospedale di Biancavilla. Qui è stato medicato e dimesso con una prognosi di 10 giorni. I carabinieri svolte le necessarie indagini hanno quindi rintracciato l'aggressore nella sua abitazione dove lo hanno trovato con la maglietta ancora sporca di sangue ed in possesso del coltello appena utilizzato. Dalle indagini era emerso che l'uomo arrestato, proprietario di alcuni appezzamenti nel comune di Adrano, poco prima aveva avuto un diverbio con il padrone dei terreni a Tigui, un 66enne di Biancavilla, per questioni relative proprio ai confini dei fondi. La discussione si era però tramutata in una vera e propria lita, al termine della quale il 66enne di Adrano aveva sferrato con un coltello da cucina diversi fendenti contro l'altro. L'autorità giudiziaria ha convalidato l'arresto eseguito dai militari dell'arma e disposto per l'indagato la misura della custodia cautelare in carcere presso la casa circondariale di Noto. Confermato dalla Corte d'Appello di Palermo, l'ergassolo per il boss di Carini, Freddi Gallina. Per i giudici il capo mafia sarebbe coinvolto nelle uccisioni di Felice Orlando, Giampiero Tocco e Francesco Giambanco. Condanna l'ergassolo per il boss di Carini, Ferdinando Gallina, detto Freddi. Il capo mafia, stradato l'anno scorso agli Stati Uniti, è stato riconosciuto colpevole di tre omicidi, quelli di Francesco Giambanco e Felice Orlando, avvenuti nel 1999 rispettivamente a Carini e nella macelleria del quartiere Zen, di proprietà della vittima, e quello di Giampiero Tocco, rapito e ucciso nell'ottobre del 2000, dopo essere stato prelevato da un commando di finti poliziotti, mentre era insieme alla figlia, che allora aveva sei anni e che era stata risparmiata. La Corte di Assisi e di Appello di Palermo, presieduta da Matteo Frasca, ha anche confermato il diritto al riconoscimento delle parti civili, i familiari di Tocco, costituiti nel processo con l'assistenza dell'avvocato Emilio Chiarenza. Per i tre omicidi erano già stati condannati altri imputati e i mandanti, Salvatore Sandro Lopiccolo, capi mafia del mandamento palermitano di Tommaso Natale. Le vittime erano considerate vicine al gruppo contrapposto allo piccolo. Contro Gallina, già nel 2008, c'erano state le accusa del pentito Gasparo e Pulizzi, non ritenute sufficienti perché isolate. Dopo il pentimento di Antonino Pupitone, avvenuto nel 2015, Freddy aveva preferito espatriare e riparare negli Stati Uniti, dove però nel 2017 era stato arrestato per ingresso illegale nel paese. L'estradizione è avvenuta a distanza di quattro anni. Controlli dei carabinieri a Marsala, 18 denunciati per furto di energia elettrica. I carabinieri di Marsala hanno eseguito una vasta operazione di controllo nelle palazzine del quartiere popolare a Mabilina, insieme a personale di una società distributrice di energia elettrica, proveniente anche dalle sedie alla Sicilia orientale. Passati al setaccio gli alloggi popolari e le pertinenze degli agglomerati principali del quartiere, allo scopo di verificare la regolarità delle forniture di energia elettrica. Sono stati accertati 21 allacci abusivi che servivano altrettanti alloggi, garage e addirittura ascensori condominali. In particolare i militari e il personale tecnico hanno scoperto in un intercapedine un cavidotto, da cui erano stati direttamente derivati gli allacci abusivi che alimentavano gli appartamenti di un'intera palazzina, così raggirando i contatori che, sebbene regolarmente attivi, registravano bassi consumi di energia. Alcuni utenti durante il controllo hanno prodotto fatture recanti importi di poche decine di euro, certamente non commisurate al consumo medio di una famiglia. Il trucco è stato smascherato al personale tecnico, che ha eseguito dell'accesso negli alloggi popolari, ha accertato l'assorbimento di energia elettrica anche dopo aver staccato il contatore. In altri casi, invece, alcuni lucchi familiari risultavano aver disattivato e quindi cessato la fornitura di energia da oltre sei anni, continuando però ad alimentare le utenze domestiche. Al termine dei controlli, sono risultate 18 le persone denunciate dai carabinieri alla Procura della Repubblica di Marsala, per furto aggravato e continuato di energia elettrica. Secondo le stime della società fornitrice, l'energia elettrica illegalmente sottratta monterebbe a circa un gigabyte per un danno economico complessivo che si aggira intorno a 250 mila euro. Ancora controlli del territorio a contrasto del degrado urbano. In periferia i carabinieri di Partinico hanno denunciato 5 persone. A Partinico, in provincia di Palermo, i carabinieri della locale compagnia, con il supporto della Polizia Municipale e del personale tecnico dell'Enel, hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio nella terza zona di area di edilizia popolare ubicata alla periferia della cittadina. L'operazione, che ha visto l'impiego di circa 40 militari dell'arma, ha interessato un'ampia zona della città, colpita nel tempo da particolari forme di degrado sociale e ambientale, tra cui la proliferazione di numerosi depositi di materiale ferroso sulla pubblica via, che oltre a incidere sulla salute dei cittadini, alimentano e favoriscono circuiti criminali connessi alla gestione illecita dei rifiuti, nonché fenomeni delittuosi contro il patrimonio. Nello specifico, i carabinieri e i vigili urbani hanno denunciato un 74enne e un 65enne, entrambi già noti alle forze dell'ordine, poiché avrebbero avviato una vera e propria attività di gestione di rifiuti in assenza di qualsiasi avoglia autorizzazione, occupando di fatto un'area di circa 1000 metri quadrati, con depositi di ferro, parti di autovetture e altri rifiuti, per un peso complessivo pari a circa 50 tonnellate. L'area interessata sarà sottoposta a sequestro, unitamente alle norme e quantitativo di rifiuti rimosso completamente, lavorando fino a tarda serata dalla ditta incaricata del servizio di raccolta dei rifiuti nel comune di Partinico. Nell'ambito del medesimo servizio, i carabinieri hanno effettuato controlli e verifiche anche all'interno degli alloggi popolari, deferendo in stato di libertà ulteriori tre persone, accusate a vario titolo di occupazione abusiva di immobili, furto di energia elettrica e ricettazione. Per i giudici, Lia Pipitone, la figlia ribelle di un boss di Palermo, uccisa a 25 anni nel 1983, è vittima della mafia, per il Ministero dell'Interno invece no. Alessio Cordaro, il figlio di Lia, continua la sua battaglia con il libro «Se muoio sopravvivimi», scritto insieme al giornalista Salvo Palazzolo. Parliamo di una storia che ha dell'inverosimile. Lia Pipitone uccisa alla mafia, per i giudici vittima di mafia, per lo Stato no. Tu segui questa vicenda ormai da tanti anni. È davvero una storia particolare. Lia era la figlia di un mafioso, un mafioso molto vicino, a Totò Riina, e lei voleva essere libera, voleva essere libera di vivere la sua vita all'Arenella, il quartiere dove i killer, i più fidati di Totò Riina, avevano la base operativa. Lia aveva un sogno, quello di cambiare Palermo, e aveva una serie di amici, uno in particolare, un amico, un maschio, e questa cosa veniva vista come scandalosa, in una Palermo diversa. Fu uccisa perché dissero aveva mancato di rispetto alla famiglia, al padre, a Cosa Nostra, come se avere un amico fosse un'offesa all'onore di Cosa Nostra. Finsero una rapina, fu uccisa. Per 30 anni non c'è stata verità. Poi nel 2012 il libro che abbiamo scritto insieme con il figlio di Lia ha riaperto il caso. Di recente la Cassazione ha confermato la condanna a 30 anni per due autorevoli boss, Nino Madonia e Galatolo, Enzo Galatolo. Per i giudici Lia fu uccisa perché aveva offeso l'onore di Cosa Nostra, suo padre diede il consenso all'omicidio. Purtroppo però per lo Stato ancora non c'è il riconoscimento di vittima della mafia. Credo purtroppo che ancora ci siano in questa città vittime di serie A e vittime di serie B. Questo conferma quanto sia importante il lavoro di inchiesta giornalistica per far sì che alcune di queste storie non vengano dimenticate. Io credo che in questa nostra terra di Sicilia, una terra che ha pagato un prezzo altissimo, otto giornalisti sono stati uccisi dalla mafia, i giornalisti giorno dopo giorno ribadiscono che deve cambiare la cultura, ribadiscono che Cosa Nostra purtroppo si sta riorganizzando, ce lo dicono le inchieste della magistratura. I giornalisti in Sicilia sono un baluardo importante per ricordare queste storie del passato, che non sono soltanto vicende del passato. Dobbiamo far rivivere gli ideali, gli ideali dei nostri martiri e non ricordarli più come morti, Falcone, Borsellino, i nostri martiri, ricordarli al presente, riprendere tutte le loro idee più importanti e far sì di costruire una terra migliore. Rientriamo in studio, studenti in corteo anche a Messina, che ha aderito alla manifestazione internazionale Global Strike for Future, per chiedere alle istituzioni un impegno concreto e provvedimenti seri contro i cambiamenti climatici. Oltre 500 i giovani messinesi che partiti da Piazza Antonello e attraversando le vie Cavour, Tommaso Cannizzaro e Cesare Battisti si sono riuniti a Piazza Unione Europea per far sentire la propria voce con cori e striscioni. È un segnale forte quello che parte dalla popolazione studentesca che spessissimo non è presa in considerazione da parte delle istituzioni. Noi siamo qui per dare un messaggio. Voi la vostra vita l'avete vissuta, ora fateci vivere la nostra, permettereci di vivere una vita felice, una vita rinnovata. Il mio intervento che ho fatto in Piazza oggi trattava appunto delle energie rinnovabili. In Italia troppo spesso si sente parlare di petrolio e non di energie rinnovabili. Noi siamo in Piazza per lanciare un segnale concreto sulla salvaguardia dell'ambiente e anche sulla necessità di utilizzare le energie rinnovabili. Noi giovani siamo consci della nostra vita, di quello che verrà e se non ci svegliamo sarà una vita pessima, una vita passata a combattere i fenomeni climatici, una vita in cui il petrolio finirà più in fretta. Le persone più anziane ovviamente non lo sentono questa responsabilità e questo pericolo, la loro vita l'hanno fatta. Se siamo qui in Piazza è perché ci teniamo davvero e fra 50 anni non sappiamo che vita vivremo e se potremo vivere ancora in questo pianeta. E vivere in questo pianeta soprattutto pensiamo che è un nostro diritto. Tanto i ragazzi hanno valori, sono forti e compatti. Io sto vedendo una grande manifestazione. Noi come CGL siamo sempre stati dalla parte della riconversione ambientale, della salvaguardia del territorio, della messa in sicurezza del territorio perché la salvaguardia dell'ambiente è la priorità oggi in assoluto. Non si è creduto forse troppo di quello che siamo capaci noi giovani, della nostra forza, del nostro livello di intrapendenza, della nostra capacità in piccoli di cambiare le cose. Guardi, noi oggi in piazza siamo tantissime scuole. Io sono rappresentante del liceo classico Mauro Ligo e per la prima volta la mia scuola, come gli altri anni, ma quest'anno c'è stata una partecipazione massiccia, una partecipazione massiccia anche da parte delle altre scuole. Quindi quando c'è da scendere in piazza, quando c'è da lottare, quando c'è da porsi vicino alla politica, noi ci siamo e quindi l'invito che vogliamo fare anche alla nuova amministrazione, chiaramente, è quello di stare il più vicino possibile a noi, di aiutarci in questo percorso insieme. Aspe Palermo, prevenzione oncologica all'Istituto di Pena Pagliarelli, screening del tumore del colon retto su 175 detenuti. Si è concluso con successo il primo intervento di prevenzione oncologica nella casa circondariale Pagliarelli di Palermo, con la distribuzione dei test per la ricerca del sangue occulto nelle feci, utile per lo screening del tumore del colon retto. Su 220 ospiti, uomini e donne, in fascia d'età compresa tra i 50 e i 69 anni, 175 hanno accettato di aderire. Per 16 di loro, risultati positivi al test, si è reso necessario l'invio di approfondimento, esame colonoscopico, così come previsto dal percorso assistenziale. L'iniziativa è stata preceduta da svariati incontri formativi e di sensibilizzazione alle tematiche della prevenzione, ed è stata molto apprezzata dalla popolazione carceraria. L'azione è stata resa possibile dalla sinergia organizzativa tra l'area sanitaria e il penitenziario, con il supporto di un medico tirocinante della Scuola di Formazione di Medicina Generale e l'unità operativa Centro Gestionale Screening dell'ASPE di Palermo, e grazie alla preziosa collaborazione del personale di Polizia Penitenziaria. Gli esami di secondo livello per la definizione endoscopica della diagnosi saranno eseguiti a cura dell'unità operativa Screening con l'oretto dell'ASPE di Palermo. Successivamente si procederà con gli altri Screening dedicati alle donne per la prevenzione del tumore alla mammella e del collo dell'utero, anche nell'ambito delle attività di promozione della prevenzione oncologica prevista in tutto il territorio nazionale in programma nel corso del mese di ottobre. Tutterare il marchio Arancia Rossa di Sicilia dalle contraffazioni con l'adesione al registro internazionale dei marchi. L'arancia rossa di Sicilia ha uno strumento in più per proteggere il prodotto dalle truffe e dalle contraffazioni. Si tratta dell'iscrizione al registro internazionale dei marchi. I mercati esteri sono un'opportunità irrinunciabile per i prodotti agroalimentari italiani d'eccellenza che da oltre un decennio vedono crescere le esportazioni sia verso l'Europa che verso i paesi extraeuropei. I produttori italiani e i consorsi di tutela devono quindi dotarsi di strumenti e strategie di difesa dalle contraffazioni e dalle merci ingannevoli che possono erodere il fatturato dei prodotti originali o danneggiarne l'immagine. Con la registrazione internazionale del marchio Arancia Rossa di Sicilia il prezioso frutto siciliano sarà ora protetto dalle contraffazioni anche in Canada, Giappone, Norvegia, Regno Unito, Stati Uniti d'America e Federazione Russa. Ancora dunque un passo in avanti per la tutela dell'arancia rossa, un frutto sempre più riconosciuto e apprezzato anche sui mercati extraeuropei. Si conclude oggi a Sant'Agata di Militello il convegno internazionale organizzato dall'ente Parco dei Nebrodi, dall'Università di Palermo e dall'Associazione Italiana Ingegneria Naturalistica. Affrontate le problematiche connesse alla difesa del suolo, agli interventi di rinaturalizzazione e alla conservazione degli habitat con l'ausilio di tecniche di ingegneria naturalistica. Finalmente dopo mesi di lavoro siamo arrivati all'inizio di questo importante convegno dove ci confrontiamo, non si confronta solo il territorio, ma si confrontano anche professionisti di altri paesi pure, infatti ci saranno collegamenti anche dalla Cina, quindi le loro esperienze per noi possono essere fondamentali. Sant'Agata che si mette al centro di tematiche che rappresentano il futuro dell'approccio con il territorio, l'ingegneria naturalistica è già sperimentata sul Parco dei Nebrodi per via dell'opera più importante che è la Torsala dei Nebrodi che rispetta tutti i criteri e i requisiti, i canoni della disciplina dell'ingegneria naturalistica e quindi se vogliamo assolutamente ripristinare un equilibrio spazio-temporale tra uomo e ambiente è necessario che rigeneriamo il nostro territorio che già è stato abbondantemente devastato da purtroppo interventi discutibili degli anni passati. Per noi è una grande fortuna avere la possibilità in presenza di fare un convegno qui perché intanto siamo passati da tre anni di videoconferenze con la distanza e per l'associazione è stato un problema perché avremmo voluto celebrare i 30 anni dell'associazione ora siamo ai 33 anni dell'associazione ma per noi è un momento importante per ricordare la nascita dell'Associazione Italiana per l'ingegneria naturalistica ma anche l'ex presidente Giuliano Salli scomparso che qui in queste stesse occasioni nelle prime tre edizioni di questo tipo di convegno era presente e molto attivo anche poi nel ricordo del parco stesso con cui collaborava. Questa è la quarta edizione del convegno, l'Aipin ha sempre partecipato ora si parla tantissimo di natural-based solutions soluzioni ispirate alla natura per contrastare i problemi derivanti dal cambiamento climatico dal dissesto e quindi dal rischio idrogeologico in Italia ma in Sicilia in particolare sappiamo che questi problemi sono forti, c'è anche una desertificazione che sta avanzando e quindi contiamo sempre di più di poter essere attivi anche qui abbiamo la nostra sezione Aipin Sicilia e con il parco continueremo certamente collaborazioni e interazioni. L'Università degli Studi di Palermo è presente in questo territorio, in tutti i territori della Sicilia da tanto tempo collaborano con il parco nell'organizzazione dei convegni, siamo al quarto convegno sull'ingegnere della logistica perché riconosce l'importanza di questa tematica. Ricordo che il territorio siciliano per il 65% è collinare, per un 20% circa montano e per la restante parte pianura, quindi gli interventi rivolti alla tecnica dell'ingegnere naturalistica e alle piante che possono essere utilizzate per il recupero dei dissesti è notevole. Faccio un esempio, per recuperare le scarpate, le aree degradate, le cave abbandonate, le zone in frana, le zone in erosione, c'è bisogno di piante e tecnica. Appuntamento dal 12 al 16 ottobre a Palermo presso i Cantieri Culturali della Zisa, Cinema de Seta, Centro Sperimentale di Cinematografia, con la seconda parte dell'ottava edizione di AnimaFix, International Animated Film Festival. Oltre 100 i film in competizione, fuori concorso e i programmi speciali per offrire una panoramica sulle varie declinazioni del settore dell'animazione mondiale, valorizzando autori e produzioni di alta qualità. Tutto pronto per la seconda parte dell'ottava edizione di AnimaFix, il festival internazionale di film d'animazione che dal 12 al 16 ottobre animerà i Cantieri Culturali alla Zisa e in particolare la Sala Cinema de Seta. Più di 100 i film in competizione, fuori concorso e i programmi speciali, con l'obiettivo di offrire una panoramica sulle varie declinazioni del settore dell'animazione mondiale. L'idea è quella di valorizzare autori e produzioni di qualità e dare spazio alle cinematografie emergenti, alle produzioni indipendenti, ai film di difficile circuitazione, penalizzati dalle logiche di mercato della distribuzione cinematografica. Tante le produzioni internazionali, ma non mancano anche i lavori italiani, tra i quali Sogno, di Donato Sansone, che racconta il sogno di un amico, così come gli è stato raccontato attraverso un vocale di WhatsApp, e Shaina Tauba, l'ultima canzone sulla terra, videoclip di Gaia Alari, dove musica e animazione entrano in contatto. A conferma dell'interesse per i nuovi talenti del Centro Sperimentale di Cinematografia di Torino, verrà presentato La Mossa del Capello, dei neodiplomati Giuseppe Loverso e Andrea Pavone, ambientato in Sicilia. I cortometraggi in concorso delle varie categorie saranno giudicati da tre giurie di prestigio, composte da nomi di rilievo del mondo del cinema, tra storici, registi, professori, giornalisti e animatori, come Chiara Magri, Olivier Cotte, Anne-Grette Richter, Nico Bonomolo, Christian Uva, Costanza Quatriglio, Giulia Conoscenti, Joshua Wallen e Lorenz Thomas Martinelli. Ampio spazio sarà dedicato ai documentari animati, la sezione Anidoc, attraverso proiezioni speciali e masterclass, in collaborazione con il Centro Sperimentale di Cinematografia di Palermo e con il Festival Tedesco Internazionale di Documentario e Animazione, Doc Leipzig, e la piattaforma danese Anidox, diretta dai registi e produttori Michel Euri Kranot. Animafix International Animated Film Festival è realizzato grazie al contributo e patrocinio del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Direzione Generale per il Cinema e l'Audiovisivo, al sostegno della Sicilia Film Commission, che opera all'interno dell'assessorato turismo, sport e spettacolo della regione siciliana, e al patrocino e contributo del comune di Bagheria. Appuntamento dunque dal 12 al 16 ottobre con Animafix, per non perdersi nemmeno un fotogramma dei bellissimi film d'animazione che arrivano da tutte le parti del mondo. Si è chiuso questa mattina il prestigioso ritiro a Manchester del Palermo, ospite della proprietà del Citigroup. Prima della partenza i Rosa hanno vinto l'amichevole contro il Nottingham Forest. Cinque giorni da sogno prima di tornare ad immergersi nel campionato di Serie B. Si chiude oggi con il ritorno a Palermo, il ritiro della società Rosa Nero in terra inglese. Ospiti del Citigroup, giocatori e dirigenti con in testa il presidente Dario Mirri hanno vissuto a Manchester giornate indimenticabili con la possibilità di utilizzare in toto le strutture a disposizione della squadra di Guardiola. Da martedì scorso, sequenza di allenamenti sul campo ed in palestra, poi anche l'amichevole di ieri pomeriggio contro il Nottingham Forest, club militante in Premier League. La sfida, a cui si riferiscono le immagini, è stata vinta proprio dal Palermo che ha segnato con Soleri il gol decisivo nel corso del secondo tempo. Oggi il ritorno in città della squadra che proseguirà la preparazione in vista della sfida al Sud Tirol in programma fra sette giorni. Torna in campo la Serie C. Questa sera nuovo match esterno per il Messina che alle 20.30 andrà a sfidare il Catanzaro. Impegno arduo per i giallorossi, reduci dalla sconfitta della scorsa settimana, sempre in trasferta sul campo dell'Avellino. Questa era l'ultima notizia, anche per oggi è tutto, vi do appuntamento alle prossime edizioni di Media News.